bella a tutti yubi eccoci qui in questo video su LeonTube per svolgere il secondo incarico di Penny costruisci strutture a scogliere scoscese ok siamo già arrivati nella mappa su a scogliere scoscese e facciamo del materiale al prima possibile facciamo questi tre alberi sono scesi dove sono gli alberi ora in questa partita c'è proprio il viceverso a scogliere scoscese non lo so proverò comunque a costruire lì a fianco al ristorante ma andiamo a vedere dobbiamo costruire cinque strutture andiamo più vicino possibile ok proviamo qua una due tre quattro cinque ok non raccontare eccole qua perfetto missione completata un saluto a tutti vi ricordo se ancora non siete iscritti di iscrivervi al nostro canale vi ringraziamo ancora un saluto a tutti